Si era insediato a Favara il 18 ottobre 2008 col titolo di sottotenente. Parliamo del dottor Gabriele Traleani che da oggi diventa capitano. Originario della provincia di Udine e con pregresse e esperienze operative nel settore della tutela ambientale, aveva sostituito il tenente Roberto Di Nunzio, trasferito a quel tempo al nucleo investigativo di Agrigento. Nel giugno 2010 arriva la promozione a tenente, adesso dopo 5 anni arriva il grado di capitano. E' per lui sicuramente un riconoscimento per come ha guidato la tenenza in questi lunghi anni di permanenza a Favara. Il passaggio da tenente a capitano può avvenire dopo 4 anni dalla nomina del primo titolo. E' molto probabile che adesso il capitano Traleani, nel giro di qualche mese, possa lasciare Favara. Probabilmente nel prossimo mese di settembre. Da indiscrezioni non lascerà la nostra provincia, rimarrà quindi nelle vicinanze. Al neo capitano vanno i nostri migliori auguri.